Ciao a tutti, oggi prepariamo un piatto che si chiama spaghetti alla siciliana. Gli ingredienti per questo piatto sono un cucchiaino di capperi, uno spicchio d'aglio, tre alici, sette otto olive taggiasche, un cucchiaio di pangrattato, olio extravergine d'oliva. Mettiamo a cuocere gli spaghetti in acqua salata. Prendiamo lo spicchio d'aglio, lo schiacciamo, lo peliamo, intanto mettiamo a scaldare abbondante olio nella padella. Aggiungiamo lo spicchio d'aglio, aspettiamo che prenda calore. Ecco, l'olio sta iniziando a scaldarsi e aggiungiamo le alici e grazie al calore dell'olio le sciogliamo. e aggiungiamo le alici e aggiungiamo le alici. ok, le alici sono sciolte, aggiungiamo il pangrattato, un cucchiaio di pangrattato e lo facciamo un po' abbrustolire. Deve diventare croccante senza bruciarsi. possiamo togliere lo spicchio d'aglio. ok, vediamo la padella dal calore. a questo punto possiamo aggiungere le olive taggiasche e i casperi. all'olio di correttato. quindi, per favorezzare la padella. ok, vediamo i nostri. all'olio si parla, andiamo a rimpiattare spaghetti alla siciliana, buon appetito!